G, G, O, M, G. Ehi, no, ehi, non ti abbiamo presa per sfilare. Ora è un lavoro vero. Un lavoro vero? Non puoi limitarti a essere splendida. O, M, G. Benvenuti, stilisti! Io sono pronta, e voi? Sì! Qui dentro farà un gran caldo! Questo cambierà la tua vita. La moda deve divertire. Tan, aiutami a scendere da qui. La prima cosa che hai trovato nell'armadio, eh? Già.